Sono stati arrestati i due presunti responsabili che nel corso della gara Foggia-Avellino avevano aggredito dei poliziotti e lanciato una bomba verso la curva degli ospiti generando criticità nell'ordine sicurezza. I fatti risalgono al 7 novembre scorso. Subito gli investigatori della Digos hanno acquisito elementi utili che hanno portato all'arresto di due soggetti che fanno parte del circuito degli ultras locali. In particolare uno dei due fermati si sarebbe reso responsabile di aggressione e lesioni provocate ai danni del personale della Polizia di Stato in servizio di ordine sicurezza pubblica presso lo stadio. Al secondo arrestato invece è stato contestato l'aver acceso e lanciato un fuoco pirotecnico dalla curva nord della tifoseria locale verso quella ospite determinando notevoli criticità per la gestione dell'ordine della sicurezza pubblica. A entrambi arrivano anche provvedimenti d'aspo che inibiranno agli stessi la partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive. Sono al vaglio degli inquirenti adesso numerosi filmati che determineranno anche eventuali altri soggetti appartenenti alle frange ultras locali ma anche a quelli della tifoseria ospite, resa sia lo stesso modo protagonista di azioni violente e illegali nel corso dell'evento sportivo.